I 100 metri, eccolo il testa a testa tra Annette Sergent e Valentina Tauceri e passa, passa la Tauceri, è un allungo imperioso, secco all'ingresso del rettilineo finale, non c'è nulla da fare per la francese Annette Sergent e Valentina Tauceri va a vincere inaspettatamente una grandissima vittoria per la nostra atleta. 9,10 centesimi, grande vittoria di Valentina.